È una bella iniziativa che mi ha proposto qualche mese fa la vicepresidente Princi. Diamo 16 milioni di euro a 36.000 giovani studenti calabresi delle scuole superiori le cui famiglie abbiano un ISEE inferiore a 15.700 euro per l'acquisto di buoni libro, per i trasporti, per servizi che hanno a che fare con la cultura. Ringrazio anche l'Inps che ci fornirà la sua piattaforma per erogare questi contributi. È una bella iniziativa perché è la regione che dice agli studenti calabresi che vuole investire su di loro perché saranno gli studenti calabresi a costruire la Calabria del futuro. Io ho sentito ieri il ministro Picchetto Fratin, col quale sono stato in quotidiano contatto nelle ultime settimane. Gli avevo chiesto di porre la questione della deroga per il porto di Gioia Tauro al tavolo dei ministri dell'ambiente dell'Unione Europea. Lo ha fatto, lo ringrazio. Parrebbe che ci sia uno spiraio. Non è semplice perché come al solito l'Italia si accorge degli effetti delle decisioni europee nella fase discendente e non partecipa invece nella fase ascendente a produrre decisioni che rispettino l'ambiente ma che siano economicamente sostenibili. Sulla autonomia differenziata ho spiegato nei giorni scorsi che la mia posizione non cambia ma non deve cambiare nemmeno quella del governo e del ministro Calderoli. Io sono stato l'artefice della modifica del disegno delle leggi Calderoli prevedendo che l'autonomia differenziata si possa fare solo dopo aver assicurato il finanziamento dei LEP secondo i costi e i fabbisogni standard, non secondo l'ingiusto criterio della spesa storica. Nessuna fuga in avanti quindi. Prima vanno trovate le risorse per finanziare i diritti sociali e civili a tutti i cittadini d'Italia sia che vivano a Crotone sia che vivano a Sondrio. Quando ci saranno le risorse un istante dopo va bene anche l'autonomia differenziata. Sono molto soddisfatta perché per la prima volta la Regione Calabria insieme al Presidente Occhiuto abbiamo risposto a quello che è il grido di allarme lanciato dal Forum Famiglie Calabrese e di sostenere attraverso delle misure economiche adeguate il rincaro dei prezzi dovuti proprio alla caroscuola. Allora sono 16 milioni che permetteranno di erogare dei voucher formativi di 500 euro e quindi andranno a soddisfare una platea di oltre 36 mila studenti e quindi tutti i nuclei familiari il cui modello ESEE, il cui reddito sia pari a 15 mila quasi 800 euro potranno attraverso apposita piattaforma presentare stanze ed attingere al contributo. Quindi è la prima volta che la Regione Calabria appunto viene in maniera così corposa e consistente è la prima volta che abbiamo anche elevato il reddito ESEE perché questa ci tengo a chiarirlo è la prima di un'importante misura che verrà sempre più incontro alle esigenze delle famiglie perché dobbiamo tutelare e salvaguardare il diritto allo studio dei nostri ragazzi e quindi garantire loro quelle prospettive che permettono loro di essere sostenuti economicamente. Sarà una prima finestra, sarà aperta ora a fine novembre e potranno accedere tutte quante le famiglie i cui figli frequentino gli istituti superiori dal secondo al quinto anno. Una seconda finestra sarà attiva da maggio e potranno accedere anche le famiglie i cui figli frequentino il primo anno di scuola superiore perché i presupposti perché si possa accedere al contributo sono un modello ESEE che fine 15.800 euro e la frequenza scolastica.